Vediamo il caso di un'applicazione con lampade e centraline d'ardo in stato di guasto. La centralina segnala apparecchi guasti, in questo caso la numero 15. La lampada numero 15 ha in effetti il led rosso fisso che segnala il guasto. Togliamo la rete e possiamo sostituire la lampada guasta fluorescente d'ardo con la nuova ExiWay Smart LED a LED in versione di Cube, mantenendo la stessa numerazione. Seguiamo le istruzioni di configurazione per il passaggio dalla modalità di Cube alla modalità d'ardo. Per procedere è necessario alimentare l'apparecchio ed è altamente consigliato eseguire queste operazioni prima dell'installazione. Premiamo in corrispondenza del LED di stato per alcuni secondi, al termine del quale il LED si accende rosso-verde. Premendo un'altra volta, continuo con la configurazione della numerazione. Premiamo tante volte quante sono le decine. Il LED lampeggia verde ad ogni pressione. Il LED diventa rosso. Premendo un'altra volta, passiamo alla configurazione delle unità. Premiamo tante volte quante sono le unità. Il LED lampeggia rosso ad ogni pressione. Infine, l'apparecchio conferma la numerazione impostata. Un lampeggio verde per le decine e cinque lampeggi rossi per le unità. La lampada è la nuova numero 15. Il nuovo apparecchio LED può essere montato all'interno dell'impianto dardo in sostituzione della lampada guasta. Ridiamo rete e abbiamo sostituito l'apparecchio con un nuovo funzionante. Possiamo interrogare il nuovo apparecchio di Cube Dardo con il sensore WLPD e l'app dedicata. In questo modo scarico i dati tecnici dell'apparecchio, tra cui anche la numerazione, confermando così che il nuovo apparecchio ha lo stesso numero 15 del precedente.